E' nato il nuovo centro informatico Sardatec. Da noi assistenza e vendita, telefoni, PC e tablet, ritiro e vendita usati, recupero dati e tanto altro. In offertissima custodie e gusci Apple e Samsung, anche in alluminio, e su ogni cambio display, pellicola in omaggio. Conviene farci una visitina. Sardatec è in Viale Porto Torres, a fianco alla Tana.